E' stato il primo weekend con gli alberghi riempiti all'insegna del turismo sportivo. E' stato il primo pienone di una pesora di Pasqua e Pasquetta a cui ha strizzato l'occhio il bel tempo, ma non è mancato neppure il primo contorno di vandalismi di primavera. Nemmeno il tempo di cominciare ad allestire gli stabilimenti balneari per l'estate che verrà, che già i bagnini si ritrovano cabine sfondate e maniglie divelte. E' il caso della zona 27 già a Bagniole, collocata in un lungomare nazario-sauro, che continua periodicamente a degenerare in movida alcolica molesta che si traduce in danneggiamenti. Nella notte di Pasqua, per un controllo, io e mia moglie veniamo giù per essere sicuri di andare a letto tranquilli, eravamo in giro e abbiamo visto dei ragazzi scendere in spiaggia, sono tornati su, mia moglie è scesa su nello stabilimento, abbiamo visto queste quattro cabine con relative maniglie, tutte rotte, tutte divelte. Ci sono i danni e poi c'è l'ubriachezza molesta che diventa un problema anche per gli alberghi, come spiega lo stesso Casoli, titolare pure della Diacento Hotel Flying. Infatti qui è una zona molto, molto, molto trafficata dai ragazzi, ubriachi, minorenni soprattutto, e questi bar qui davanti purtroppo si conoscono, ma non voglio parlare di bar, voglio solo chiedere un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine, perché la stagione ancora non è iniziata, noi apriremo l'hotel il 22 e avere tutto questo casino sotto l'hotel e i clienti si lamentano. Già è successo l'anno scorso e non vorrei che successe anche quest'anno. Gli esercenti però non ci stanno a fare da vittime sacrificale, vogliono più deterrenti dai presidi di controllo alle telecamere. Faremo denunci contro i gnoti e anche per una tutela nostra nei nostri confronti e poi faremo un esposto e quest'anno faremo questo esposto, faremo, vediamo se altri miei colleghi la vorranno firmare, se no andrò avanti per la mia strada.